benvenuti a firenze spettacolo il mensile che vi porta alla scoperta dei migliori eventi a firenze e in toscana sabato 17 inizia il radicondoli festival un festival che durerà fino a fine luglio dedicato al teatro alla danza e alla musica diretto da massimo luconi che abbiamo intervistato per voi sulle nostre pagine mentre per la rassegna estiva riprendiamoci la scena promossa da ceswood sabato 17 a monte san savino protagonista bobo rondelli mentre martedì 20 lorenzo baglioni sarà a castelnuovo in garfagnana entra nel vivo anzi comincia il musart festival in piazza santissima annunziata a firenze giovedì 15 con gineva di marco in concerto sabato 17 arriva roberto bolle and friends e lunedì 19 invece edoardo bennato insieme all'orchestra della toscana per un evento imperdibile tutto questo musart festival da giovedì 15 in piazza santissima annunziata per il fine settimana fuori porta al mare magari vi consigliamo di scoprire il paradù eco resort a castagneto carducci immerso in una pineta secolare un resort eco friendly che propone divertimento relax e sport per tutta la famiglia diverse le soluzioni tra cui anche il glamping immersi nella natura in casa e vacanza da scoprire e da non perdere vino e no gastronomia sulla costa degli etruschi scoprite il paradù eco resort vi ricordo invece sul nostro sito firenze spettacolo punto it store tantissimi tagliandi sconto per concerti cene manifestazioni e benessere quindi basta un clic oppure andate in edicola per comprare la vostra copia di firenze spettacolo luglio agosto buoni eventi a firenze e in toscana ciao Grazie per la visione!